Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Continuiamo col progetto dell'isola, vi spiego gli ultimi passaggi che mancano. Come vedete più o meno siamo a buon punto, le ultime cose che mancano sono fare le ante e colorare il resto della cucina e fare l'impianto luce di gas. Quindi siccome ho poco tempo per chiuderlo prima di tornare a casa, direi di cominciare subito. Ciao a tutti. 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 Tutte le ante, i frontali dei cassetti sono stati messi, la parte divertente arriva adesso, stuccaggio, levigatura e finitura. Ciao a tutti. 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 Ottimo anche il colore è stato dato quindi manca solo l'impianto del gas e della luce. Grazie per la visione! 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 Oggi torno a Verona e quindi non faccio in tempo ma pensavo di girare un contenuto con tutta la cucina completa sia la parte posteriore che l'isola dove vi faccio un resoconto totale di tutto, di quello che è stato usato, più o meno di quanto si è speso, tutti gli oggetti e cose che abbiamo comprato per fare il progetto. Così vi faccio un bel recap e la chiudiamo lì. Arrivati a questo punto a me non mi resta che salutarvi, ringraziarvi a tutti, ricordarvi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti così non vi perdete tutti i prossimi progetti. Lasciate un bel pollice su se il contenuto vi è piaciuto o vi è stato utile in qualsiasi modo e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.